Musica Ciao a tutti ragazzi, come si? Mi è Massara, siamo qui con... Da 69, ciao ragazzi! Stiamo su Unfair Mario dopo mai, perchè non abbiamo mai giocato Unfair Mario Ed era ora pure di farlo perchè Unfair Mario è figo Start of the Challenge 1 Siamo Mario Ok, devi usare le frecce per muoversi Bene, bene Per leggere la scritta No no, non ho letto la scritta E che... Va bene, non è che si incomincia benissimo Non è che si incomincia benissimo, è che... Non si incomincia per niente Paffa... Porco giuda raga, questo gioco non è come... Cap Mario e sono cascati E devi saltare sull'ultimo blocco della terra Guarda fermati, salta sull'ultimo blocco Eh ma che palle questo qua non... C'ha dei movimenti proprio di merda Mio dio raga che sforzo C'è... 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 Vabbè ma dai, manco all'inizio C'è raga, ho appena fatto l'intro Manco che mi ha iniziato un pochettino a giocare No, io passo sopra Secondo me ma... No, no, sopra, 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 sopra Quello sopra secondo me non ci deve andare sopra Ma appunto Oh, check point almeno Piar Mirio Falta direttamente tu F***** Merio Merio Mario Questo... Oh, ce n'è almeno uno Ci sto mettendo Può essere che non ce n'è manco uno Dove puoi un attimo pisciare per terra Non puoi farci No! F***** Panacotta Mi scordo! Ma come cacchio faccio a capire che... Il secondo blocco alla fine Come se potessi perdere tempo a contare i blocchi Aspetta, salta, attento Ok, salta all'ultimo Ma ce n'è solo uno dove posso saltare Lì mica posso fare un saldo così tanto alto Forse il secondo blocco Sì, devi saltare fino all'ultimo blocco L'ultimo blocco Ahè! Pannacotta! Pannacotta! È migliore, Mario Ok Ah, attenzione È una trappola Ma come cacchio faccio ad andare più avanti di così? Vabbè, mi ero diventato tipo di asuga Il ponte sano Il ponte sano Ok Ok Oh, cacchio Per camminare tipo Corri, hai visto le scivoli e salti No, secondo me Guarda Io adesso devo saltare Di salire di sotto? No, mi metti la freccia a destra Sono sicuro, guarda No No No, aspetta Non passare sotto quei blocchi Secondo me è la trappola No Ok, no Ok No Mario Mamma mia E scivola sulla panna cotta La panna cotta La panna cotta Paglia Banana Allora, fallo tutto di seguito Tipo salta all'infinito Così Ma sembra un gioco normale Cioè, allora Tu Questo gioco dici Beh, non posso fare una camminata di due passi Uno e due Ma di tre Ecco Bisogna durare cinque ore secondo me Cinque livelli è tutto il gioco No, dieci sono Senza volerlo ho cliccato a ritrae Immaginate se cliccavo a tutitle Ecco E lì proprio panna cotta e robe varie Ok Ok Qui tutto bene Qui tutto bene Andremo a saltare Diciamolo Abba No Secondo me c'è Non c'è la panna cotta scivolosa Secondo me devi saltarlo quello eh Che? Ma il blocchi I quattro blocchi lì davanti C'è un brutto presentimento per te Nooo Panna cotta Panna cotta Ok Ok Va bene Allora Il primo blocco devi saltare precisamente sul primo blocco Un secondo Salta tutto Lì ci stavano le spine Un secondo No raga Guarda raga Allora se io Adesso non riesco A fare questo pezzo E arriva al checkpoint Minca Secondo me devi saltare all'ultimo E non devi saltare Di sotto Dal blocco sotto Se ti scivola Oh Ma fa Che co- si Ma che panna cotta Eh vedi Col Con la scusa della panna cotta ci arriva Uuuuuh What the fuck Secondo me devi saltare tutto Ma secondo me c'è qualche blocco da sposto sopra Di sicuro Salta No Salta Salta Vabbè Si Si salta tutto di seguito però Funziona però 5 anni Posso andare su questo Posso andare su quest'altro O questo O questo Salta tutto Non è venuto a urla tanto di Prendiamo Forza Il sole è piacere Ti do la mia forza Oh Si Fucking Porco Panna cotta Facchio Facchio Veramente? Ah perché hai visto i blocchi al... No no io ho sparato a caso Volevi buttarti inoltre Ma secondo me non ci puoi neanche andare Dico Certo ma se io faccio ste cagà Oddio Oddio No Ok Sto pezzo Nooo Cero quasi Raga dobbiamo buggare il gioco Si bugghiamo Usa la fly Mario Usa la fly Sì Goka È stata per morire È arrivata per morire Oh Goku Non si Non sai il primo blocco Basta Mizzica che sulleggiata Mother no no secondo me c'è un blocco invisibile secondo me perché allora è impossibile infatti ho visto prima no no va bene io non sono umano ma che ti posso fare io ci provo guarda in mezzo ecco salta al mezzo fermati salta tutto quanto salta sopra aspetta salta sopra e switcha sotto secondo me capito salta e cascati sotto poi salta sopra quel blocco e poi risalta i goomba uccidiamoli se ce lo fai arrivarci e così il master di dare si si uccita diventa una vecchia pazza no che si era trasformato e non mi trasformerò in una vecchia matta e butti portano fallezionare tipo amm sexy salta 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 ma che si è passato il volume di camtasia è volato via oddio abbiamo scoperto un bug ragazzi che se finite il livello soltanto volate via no 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 devo fare l'ultimo 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 blocco era tempo allora l'ultimo blocco di fare un salto della madonna panna cotta ok siamo riusciti proviamo a passare sotto il blocco te l'ho detto è come cat mario cavolo c'è blocco che diventa viola la randamo ora non siamo mi scommettevo guarda ehi no che culo e qua secondo me devi saltare sopra il blocco se non sopra mi vergognavo molto piano attento secondo me caschi lì c'è tipo non si casca il pavimento tipo vai piano molto piano ok molto piano ok ahhh come devo peggio di non no devi prendere l'incorso ok e non salto ok ragazzi ci siamo attenzione questo qui è un bel punto quel punto si casca eh questo blocco si fa cascare qui c'è andate sopra io provo a saltare dall'altra parte chissà cosa succederà tanto morirò il primo blocco secondo me ci deve andare il secondo non ci giurerai tanto ma forse è il terzo ma non lo so sono ipotesi e ce la faccio comunque ti posso dire una cosa solta anche posso dire una cosa rieccoci oggi mi impareremo a fare questo punto senza bestemmiare anche se è impossibile allora guardate basta fare così ma che porco ho trovato il modo per rialzare il volume basta fare raga ho trovato il modo per fare questo pezzo sono fortissimo ma certo vieni eh volava allora è stato è stato un piccolo lato della condivisione è impossibile siamo troppo forti oh raga ragazzi abbiamo fatto un salto sono troppo forti no lui sta controllando me cioè quando io ho tipo non trovo un punto in dove andare lui mi controlla ok ce la faremo wooo comunque non è comunque non è che vola via è un bug che noi ci alziamo for the next level oddio no la pagina la pagina including ok vero e questo ho rischiato io non la non li puoi andare addosso prova ad andare addosso eh ti uccide l'ho provato anch'io ti uccide guardalo di solito i bù quando li guardi non si fa prendere la faccia beh vabbè ma non si fa guardalo guardalo vabbè ma non si può non si può fermare vedi perchè l'ho ucciso te lo metto fucking come cazzo ah affanquesto li fa naruto ahahah non si ne rizzo te prosuvi ciao 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 qu'on